Ho un sogno nel cassetto che è quello di vedere tutte e sette le meraviglie del mondo e Petra era uno dei miei grandi sogni. Ho prenotato questo viaggio a giugno del 2022 e ho scoperto l'agenzia Archetravel un po' casualmente nelle mie ricerche in internet e devo dire che è stata una piacevole scoperta. Ricorderò questo viaggio come uno dei viaggi più belli che abbia mai fatto nella mia vita, non soltanto perché ho realizzato uno dei miei grandi desideri, ancora ricordo l'emozione alla vista del tesoro sul sito di Petra, un'emozione che mi ha mozzato il fiato, un'emozione indescrivibile perché era esattamente dove io desideravo di essere, ma grazie anche alla professionalità della nostra accompagnatrice Sara che grazie alla sua squisita gentilezza, la sua disponibilità ha reso tutto molto più piacevole. È stato tutto organizzato alla perfezione, ci siamo tanto divertiti a galleggiare nelle acque del Mar Morto, a giocare con il fango e poi oltre Petra, piccola Petra, la meravigliosa poi cittadella. Abbiamo visto delle bellezze inaudite, io consiglio a tutti di effettuare questo viaggio perché è indescrivibile, la bellezza di questo viaggio è indescrivibile, non bastano le parole, le parole sono accompagnate dalle emozioni e infatti ancora ricordando mi emoziono perché la vista di di Petra è stata un'emozione per me immensa. Grazie Arche Travel e al prossimo viaggio!